Ciao Giovignotti, siamo tornati dalla spiaggia sabbiaiosa e sempre Eros, il Ramazzotti che vi parla sono sempre più tappato ma va bene lo stesso forse siamo arrivati a 2 euro diciamo che di segnali ce n'è tanti ma c'è un'infinità ma proprio un'infinità di linguette che è una roba allucinante che bene essere proprio che cazzo è un tubetto, tubetto in spiaggia Regina ce la siamo persa ah è laggiù in fondo comincia ad avere a cavallo di schiena questa sarà un'altra linguetta sicura da un ferretto si va la linguettina di quella è andiamo di là vediamo di là io continuo a tirar sul naso tranquilli che è tutto in ordine nel frattempo io continuo sempre a ricordarvi di di iscrivervi al canale e da oggi come vi dicevo prima potete anche anzi da ieri non da oggi potete anche abbonarvi adesso vi faccio vedere cosa ho trovato prima vicino al bar un attimo eh ecco lo trovo più eccolo qua l'ho visto ma ho detto è troppo scuro ho guardato l'appiglio qua uno Swarovski però vabbè dai vediamo se non lo mette neanche a fuoco eh niente non gli piace vabbè e poi ho trovato vediamo se lo trovo vediamo se lo devo prendere sotto la rospa qua è un'impresa adesso trovarla in tasca con i guanti ce la farò ce la farò iiii quel cazzo niente non vuole saltare fuori vi faccio vedere intanto il panorama eccolo qua eccolo qua io ho trovato questo sempre Simi Scrauso in rame che non mette a fuoco manco per il cazzo qua e un orecchino vabbè ho fatto l'appare uno orecchino anello e braccialetto mi manca la collana vediamo se la troviamo un'altra linguetta vediamo su ce n'è veramente una strage dobbiamo andare un po' di qua vediamo anche qua c'è sabbia dura vediamo questo che si fa di piccola magari 10 centesimi cazzo che culo non pensavo di trovarli non vi faccio vedere tanto li conoscete già non pensavo di trovarli orecchino non pensavo qua dovrebbe esserci qualcosa vediamo qui c'è una roba rugginita un bel chiodo ottimo cosa mi mancava ottimo ottimo lo suono fa schifo è uscito vediamo che cazzo è se c'è qualcosa non sono proprio convinto un altro com'è il suo filmaggio che cazzo è guarda per me usò un cazzo una roba talmente piccola un brillante, un coso d'oro col brillante qua c'è una caramella vediamo qua vicino i scogli che c'è da questo un tappo 3 troppo da scavare qua niente oggi abbiamo rinunciato un 3-4 bucchi che troppo